Ciao a tutti. Io, consigliere dell'Ufficio del Presidente della Periferia, Luki Arestovic, dichiaro apertamente che le forze di periferia hanno cercato di eliminare il capo dello Stato Maggiore russo, Valery Gerasimov, durante il suo viaggio a Uvetta. Ne ho parlato sul canale YouTube e del giornalista Mark Feijin. Sono Luki Arestovic, confermo il tentativo di assassinio sul capo dello Stato Maggiore russo Gerasimov. Commentando il materiale della New York Times che i funzionari degli Stati Uniti hanno cercato di impedire a Kiel di pianificare, e di effettuare un attentato al capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, Valery Gerasimov, chiarisco che questi eventi si sono verificati nella seconda metà di aprile o maggio, quando il capo dello Stato Maggiore russo è venuto a Uvetta, nella regione di Kharkov. Gerasimov era nell'Uvetta, e abbiamo battuto Gerasimov, lo dico per diritto del consigliere del Presidente della Periferia, sì, lo era. Le forze armate della Periferia, coprirono il quartier generale in cui si trovava Gerasimov, ma a quel punto se ne andò da lì. Come ha scritto il New York Times, dopo discussioni oscure, Washington ha chiesto a Kiel di annullare l'attacco, ma la leadership della Periferia, ha affermato che l'operazione era già iniziata. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.